Le sculture hanno sempre e cercano la capacità di andare oltre se stesse perché quando un'opera riesce a trascendere allora perde la temporalità e diviene qualcosa che è in grado di andare oltre se stesse. La scultura torna in città con l'esposizione di uno degli artisti più influenti della scena internazionale contemporanea. Dal 19 giugno al 30 settembre arriva infatti Aurum la mostra di Fabio Viale organizzata dalla Fondazione Guido d'Arezzo assieme al Comune in collaborazione con l'Associazione Culturale Le Nuove Stanze. L'Arezzo è dedicata alle mostre di scultura, ne abbiamo avute di importanti nel passato, andiamo avanti con Fabio Viale che è un maestro del marmo e delle contaminazioni del marmo, a me piace tantissimo e quindi l'abbiamo fortemente voluto. La mostra è incentrata su varie sedi, non soltanto la Fortezza ma anche Sant'Ignazio, la Galleria d'Arte Contemporanea, San Francesco, San Domenico, quindi ci sono anche varie piazze della città coinvolte. E credo che sarà una mostra entusiasmante per noi aretini che amiamo la nostra città e quindi amiamo l'incastonamento di questi gioielli all'interno dei nostri monumenti ma credo anche per tanto turismo culturale che ci verrà a trovare grazie a questa mostra. Oltre 40 le sculture in marmo in esposizione e in quasi tutte inserito quasi segretamente un grammo d'oro, vero leitmotiv della mostra oltre che metallo indissolubilmente legato alla storia della città di Arezzo. L'oro e il marmo sono due materiali molto differenti ma simili, sono materiali preziosi ma che dialogano davvero in modo armonico. Ho utilizzato l'oro incastonandolo dentro il marmo ma l'oro non è visto solo come un materiale in grado di donare estetica, bellezza all'opera, ma l'ho usato e ho cercato di mettere in evidenza gli aspetti più provocatori e controversi di questo bellissimo metallo.